Un oceano di dolore di padre Frederick Faber da Il piede della croce Dolori indescrivibili Quando riflettiamo sul sistema migliore col quale poter descrivere le sofferenze di Maria ci si convince che esse in realtà sono indescrivibili perché non possiamo considerarne che l'apparenza esterna e ci mancano perfino le espressioni adeguate con le quali si dovrebbero ritrarre queste stesse apparenze Chi osserva la vastità dell'oceano atlantico scorge un immenso volume d'acqua circondato dalla curva luminosa dell'orizzonte Questa vasta estensione acquea però nulla rivela né della vita molteplice e varia che vibra nel suo seno né della meravigliosa flora marina così ricca d'erbe dai colori vivaci né delle purpure e foreste di coralli né dei folti cespugli di un verde dorato né delle grotte quasi fantastiche ricoperte di alberelli gialli che assomigliano a palme fronzute e bagnate dalle onde azzurre La superficie dell'oceano non rivela neppure le lucenti erbe screziate e arboriformi che formano come delle fughe di viali assai simili a quelle di un parco né l'immensa distesa di rose e foreste nelle quali la vita formicola sotto forme strane e magnifiche che non si possono immaginare Lo stesso si dovrebbe dire relativamente all'oceano dei dolori che si agitano nei segreti abissi del cuore immacolato di Maria Ciò che si può scorgere in questo oceano ci riempie già di stupore Eppure è appena una scarsa rivelazione di quanto realmente vibra nel cuore addolorato della madre di Dio A quali dolori paragoneremo dunque queste sofferenze? Uomini santi dopo aver considerato le pene che la Vergine sopportò per la salvezza dei peccatori la proclamarono corredentrice del mondo Dichiararono infatti che le sue sofferenze si unirono al prezioso sangue di Gesù formando così un unico sacrificio per scontare i peccati del genere umano La Chiesa applica alle sofferenze della Vergine l'espressione di Geremia O voi tutti che passate vedete e considerate se c'è un dolore simile al mio E spesso l'amore della Vergine si rappresenta anche come un fuoco che neppure molte acque possono estinguere E appunto con simili espressioni che i santi e i dottori della Chiesa scrissero sull'immensità dei dolori che Maria sofferse Per quanto grande fosse stata la crudeltà esercitata sul corpo dei martiri scrisse Sant'Anselmo Essa era tuttavia leggera o piuttosto trascurabile in confronto della cervità delle sofferenze di Maria San Bernardino da Siena dichiara che i dolori della Beata Vergine furono così grandi che se fossero distribuiti fra tutte le creature capaci di soffrire esse morrebbero istantaneamente Ma ciò che soprattutto dimostra l'immensità dei dolori di Maria è che essi superarono tutti i martiri Non solo nessun martire nonostante la durata e la cervità delle torture riuscì a emulare la Vergine del patire ma neppure tutte le agonie riunite di tutti i martiri con la loro varietà e intensità si possono confrontare con le angosce sopportate dalla dolorata Ma anche riguardo all'angoscia corporale Maria superò i martiri Tutta la sua persona fu infatti imbevuta di amarezza le spade che trafissero la sua anima colpirono tutti i nervi e tutte le fibre del suo corpo e si può anche congetturare che il corpo virginale di Maria esente da colpa e dotato delle massime perfezioni fosse stato formato così delicatamente affinché soffrisse più di ogni altro eccettuato soltanto quello del suo divin figlio Quale fu il valido sostegno dei martiri nelle loro trutture? Tal sostegno fu costituito dalla luce e dallo splendore che inondavano la loro anima La loro esistenza era anche corroborata dalla considerazione del divin crocifisso che li fortificava con la sua bellezza e gloria Ecco ciò che spegneva il fuoco gli lo rendeva gradevole come il zefiro primaverile Ecco ciò che rendeva tenere e soavi le verghe e desilaranti le sferzate Ecco ciò che attutiva lo strazio causato dal tagliente acciaio il quale squartava le carni e recideva le insanguinate fibre Nei martiri era più terribile l'esterno che l'interno Non che la loro agonia fosse reale ma essa era però temperata controbilanciata e quasi trasformata dei soccorsi che i martiri ricevevano dalla propria anima rinvigorita dall'infusione di grazie e di amore con cui il loro generoso maestro li inondava durante la prova Invece Maria dove poteva rivolgersi per trovare conforto? Bisognava che la sua visione spirituale convergesse dove si fissava il suo sguardo addolorato Ma i suoi occhi lacrimosi erano fissi su Gesù ed era appunto tal vista che costituiva il suo martirio Ella considerava la natura umana del figlio divino perché è sua madre madre superiore a tutte le altre madri madre che quindi amava Gesù di un amore più intenso dell'affetto che tutte le altre madri considerate insieme portano ai propri figli Gesù è suo figlio e in qual prodigiosa maniera è suo figlio Egli è il suo tesoro il suo tutto Ma quindi qual sorgente di spasimo acuto crudo deleterio impareggiabile scaturiva da tale contemplazione Eppure c'era ancora di più e cioè la natura divina del Salvatore Si vedono talora certe madri che idolatrano i propri figlioli sostituendo quelle loro creature al creatore considerandoli come il loro ultimo fine e vera felicità amandoli di un affetto che compete soltanto a Dio La Vergine non avrebbe potuto far tutto ciò eppure in un certo senso avrebbe benissimo potuto farlo perché Gesù non poteva essere considerato come un idolo ma doveva essere adorato come Dio Nessuno del resto intuiva ciò meglio di Maria Nessun angelo rese mai a Gesù un culto così sublimemente umile come glielo rese la Vergine Madre Nessun santo nemmeno la Maddalena si prosternò mai ai piedi del Divino Maestro con un'angoscia così straziante e con un amore sì compassionevole Gesù è Dio e Maria lo vedeva tale attraverso l'oscurità dell'eclisse ma allora il sangue gli sputi le macchie di fango le piaghe ripugnanti le ammaccature livide variegate tutto ciò che cosa significa su una persona realmente ed eternamente divina è inutile tentare di dare un nome al dolore che amareggiava l'anima di Maria Gesù gioia dei martiri è come un carnefice per sua madre egli infatti la crocifisse una volta mediante la sua natura umana e un'altra volta per mezzo della sua natura divina seppure il corpo e l'anima non costituivano due crocifissioni della sola natura umana non ci fu mai alcun martirio paragonabile a quello sostenuto dalla dolorata che nei suoi strazi superò tutti i tormenti sopportati dai martiri il suo martirio infatti risultava di un complesso di dolori che non si possono né annoverare né approfondire è questione non solo di genere ma anche di grado che le sofferenze di Maria erano di un genere che aveva soltanto alcune affinità con altri generi dolori per la loro entità e grado esse furono dalla chiesa chiamate per antonomasia dolori di Maria di un'altra di un'altra la loro entità di un'altra di un'altra di un'altra